Rosalinda Cannavo e Andrea Zenga diventeranno genitori della loro prima figlia tra qualche settimana. La coppia non è più nella pelle. I due ex concorrenti della casa del grande fratello Vip Rosalinda Cannavo e Andrea Zenga diventeranno genitori della loro prima figlia tra qualche settimana. La coppia non è più nella pelle e non vede l'ora di conoscere la loro bambina. Dopo la cameretta sembra essere tutto pronto per la nascita della piccola. Rosalinda Cannavo e Andrea Zenga al nono mese. Aspettiamo solo baby. Rosalinda Cannavo e il compagno Andrea Zenga hanno passato le loro vacanze estive dividendosi tra la Sicilia e l'Emilia Romagna. Insieme all'innamoratissima coppia c'era anche il cagnolino Kinu che è diventato tra i protagonisti dei fan dei due ex protagonisti del grande fratello Vip. Tra qualche settimana la loro famiglia finalmente si allargerà con l'arrivo della loro bambina. L'attrice siciliana è arrivata ormai al nono mese di gravidanza e sta documentando passo passo con i suoi fan gli sviluppi di quello che ha definito il periodo più bello della sua vita. I futuri genitori hanno fatto di recente rientro a Milano dopo essersi rilassati a Rimini. Rosalinda ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto del compagno Andrea Zenga e del loro fedele compagno a quattro zampe. Si rientra a Milano. Quest'anno le nostre vacanze hanno avuto un sapore diverso, semplice e genuino, immersi nella dolcezza delle nostre famiglie e nonostante la semplicità, sono state le più belle e speciali di sempre. Adesso aspettiamo solo baby. La coppia ha ammesso durante le ultime settimane di provare un vero e proprio amore per la piadina romagnola. Ultimamente, infatti, se ne sono concesse più di qualcuna. Il futuro papà Andrea Zenga ha dedicato anche un post all'amore per il cibo tipico dell'Emilia Romagna. Vi auguro di trovare qualcuno che vi guardi come chinu guarda la piadina, ha scritto l'ex concorrente del grande fratello Vip. Alcuni giorni fa la coppia innamoratasi nel reality di Alfonso Signorini ha condiviso la loro emozione per aver ricevuto a casa la carrozzina per la loro bambina. Siamo davvero già tanto emozionati. E potete immaginare la gioia di vedere a casa la carrozzina. Adesso non vediamo l'ora di vederci la nostra piccola, pronta per iniziare la sua avventura nel mondo. Abbiamo scelto il trio perché ogni dettaglio è pensato con amore, proprio come lo è la nostra famiglia. Presto avremo la nostra piccola tra le braccia, e siamo pronti a vivere insieme momenti indimenticabili.